Tanto a livello centrale che locale si fa un gran parlare della necessità di aiuto e sostegno a imprese e famiglie, ma poi la realtà suona ben diversa. Ne è un esempio ben chiaro l'aumento dell'imposta di bollo scattata quasi sotto silenzio a partire dallo scorso 25 giugno. Gli importi in precedenza stabiliti in 1,81 e 14,62 euro sono passati rispettivamente a 2 e 16 euro. Un aumento che riguarda quindi tutti gli atti che necessitano di applicazioni di marca da bollo, sia per i privati che per le aziende. Fra questi figurano le fatture che contengono importi non assoggettati a diva, gli estratti conti o altri documenti di accreditamento e adebitamento per somme superiori a 77,47 euro, ricevuto lettere commerciali presentate per l'incasso presso gli istituti di credito per somme inferiori a 129,11 euro, nonché libri sociali, registri contabili, scritture private contenenti convenzioni e anche unilaterali che disciplinino rapporti giuridici di ogni specie, istanze, memorie, ricorsi dirette agli organi e all'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati, ovvero provvedimenti amministrativi. Alla faccia del sostegno a chi cerca di continuare a lavorare fra mille difficoltà.